Lettore Manfredi, Napoli diventa sempre più patria dell'innovazione tecnologica, ovviamente con la Federico II in pole position. Oggi noi se vogliamo creare sviluppo, occasioni di lavoro per i nostri giovani, miglioramento della qualità della vita dei nostri cittadini, dobbiamo puntare sull'innovazione. L'università si sta fortemente impegnando in questo, crescendo nella ricerca, nella formazione e nell'attrazione di imprese. Abbiamo decine di imprese che stanno investendo su Napoli, in questi settori, consentendo anche ai nostri ragazzi di trovare un lavoro qualificato e ben retribuito. Questo ci dà grande soddisfazione e continueremo a lavorare intensamente in questa direzione. Grazie per la visione!